Ciao a tutti, mi chiamo Giordano Casali, ho oggi 32 anni, sono originario di Valentano, provincia di Viterbo e nel 2014 ho scelto di arrolarmi nella legione straniera perché ho fatto due anni militare in italia prima dal 2010 al 2012 ero in vfp1 in cavalleria e con il sogno di appunto arrivare a paracatutista, incursore, lagunare, qualunque cosa fosse al momento pur di fare questa vita qua perché perché pensavo mi piacesse che forse sarebbe abbastanza la pena farlo in italia non sono riuscito per il semplice discorso di concorsi e cose che tutti sanno e quindi un po' stanco del sistema un po' stanco di aspettare ho preso la decisione di partire per l'estero e entrare nell'esercito dove stranieri potessero arrolarci e fare il loro percorso e quindi mi sono prima informato so che non ci sono tante informazioni al riguardo e così sarà però ecco appunto su quello che riguarda l'arrollamento è tutto chiaro è accessibile a tutti dal portale internet del sito della legione straniera il che consiste in sintetizzando quello che c'è scritto in lungo sul sito se volete fare questa scelta per chi volesse fare questa scelta basta un documento di riconoscimento valido presentarsi in uno dei centri di reclutamento che sono sparsi quasi in tutta la francia però per chi viene dall'italia da italiano consiglio di andare direttamente a dobbagne perché è il primo reggimento madre viene chiamato la maison mère quindi reggimento madre cioè dove tutti nascono e tutti muoiono della legione cioè comunque vada in qualunque condizione si lascia la legione si passa da un bagno sia nel congedo sia nel fine carriera sia nei funerali e tutto quello che riguarda comunque lasciare la legione straniera e quindi è più semplice andare direttamente lì e fare tutto lì le procedure di arrollamento le visite mediche visite psicologiche tutte queste cose qua le donne non possono arrollarsi nella legione straniera perché non perché si faccia un discorso maschilista o femminista ma perché per natura umana cioè la composizione fisica della donna la impedisce di stare e vivere in determinati ambienti perché è stata provata questa cosa anni fa non mi ricordo quando ma voci di corridoio ci hanno raccontato che quattro donne provenienti dalle forze speciali francesi quindi non donne comuni molto preparate quindi professionalmente sono state messe con una sezione di legione in guiana la guiana e foresta quindi palude e mangrovie beh dopo qualche settimana le hanno dovuto evacuare tutte perché appunto sono arrivate le mestruazioni ciclo mestruale che è naturale in una donna e una donna se non riesce a mantenere un certo igiene in questo momento della sua vita rischia la setticemia quindi sono state dovute evacuare appunto per un discorso naturale non per un discorso di non riuscire a farcela perché il legionario è appunto sta in quei posti li vive lavora in quei posti li non è non ha il comfort della caserma del bagno della doccia deve riuscire a stare in determinati posti per mesi soprattutto in guiana si sta lì per mesi nella foresta e quindi una donna non riuscendo ovviamente così come l'uomo ma essendo più resistente naturalmente non resistente di forza muscolare o mentale anzi anzi essendo più forte naturalmente riesce a vivere più tempo in quei posti che non è che è successo anche che a volte sono stati evacuati degli uomini per le stesse motivazioni quindi solo che le donne appunto anche se non avessero per motivi di salute il ciclo mestruale avendo una composizione fisica fatta diversamente da quella dell'uomo stando nelle mangrovie essendo in posti molto infettati può avvantaggiare molto di più la setticemia rispetto a un individuo maschio e quindi è l'unico motivo per cui non servono le donne è questo non perché sia un esercito maschilista o estremista come come si vocifera perché mi sono arruolato perché volevo appunto mettermi alla prova più che altro e in quel senso lì quindi non è niente di impossibile perché se l'ho fatto io lo posso lo può fare chiunque il consiglio che posso dare più che consiglio è è una realtà è che conta molto la mente al di là del fisico il fisico poi viene da sé magari o no non è non è fondamentale viene la cosa più importante alla mente cioè essere determinati e volerlo fare a prescindere il percorso inizia appunto così dove c'è un'accoglienza al cancello alla porta carraia in italiano si chiama dove si entra e si vengono accompagnati in un ufficio ovviamente nel momento in cui entrate vi scorderete l'italiano perché sentirete parlare solo francese non esiste altra lingua al di fuori del francese da quel momento in poi e anche perché l'unico modo per impararlo poi vengono presi tutti i vostri beni tutti i vostri effetti personali tutto quello che avete viene preso e viene messo in una parte custodito e da quel momento in poi non potete più accedere a telefonino carta di credito passaporto qualunque cosa cioè siete praticamente tagliati fuori dalla realtà dal mondo dal mondo perché per una questione di sicurezza perché non vogliono che vengano fatte delle foto non vogliono che vengano registrati determinati audio e soprattutto questo lo si capisce poi perché nel mentre è normale che siamo tutti dei pesci fuori di pesci fuori fuori d'acqua ma in quel momento lì è fondamentale perché è già quello un inizio dell'addestramento cioè un tagliarvi dalla vostra vita passata qualunque essa sia a prescindere dal fatto che veniate da una famiglia di alto rango che siete cresciuti in orfanotrofio tutti sono uguali tutti a prescindere indistintamente anche perché non avrete un nome nel senso che vi errorerete con il vostro nome ma verranno fatti dei controlli questi controlli servono appunto per vedere la vostra fedina penale il vostro status nel vostro paese d'origine perché perché non più come tanti anni fa si arruolavano solo ergassolani o gente che usciva da di prigione ma si arruolano anche persone come me che hanno una fedina penale pulitissima e non avevano niente da nascondere o da dover dimenticare per forza nel paese d'origine e quindi hanno un po ridimensionato la cosa sul sul discorso appunto ex ergassolani nel senso che in base a che crimini si sono stati commessi nel paese d'origine non si viene più arruolati cioè se questi crimini sono troppo gravi non si viene accettati per un motivo di appunto immagine che oggi la francia vuole dare motivi questi non lo so non si sa nessuno probabilmente è questo è quello che è stato deciso stavolino e invece in base sono stati commessi crimini più più semplici più che poi c'è distinguerli è difficile comunque in base a quelli che sono i criteri loro non si sanno perché alcuni si altri no e non è che danno mai una spiegazione cioè se dicono tu sì tu no tu sì tu no basta appunto non è che stanno tanto a perdere tempo nelle chiacchiere è così che funziona il sistema là dentro e quindi perché avesse commesso dei crimini e volesse arruolarsi non posso dirvi in base al tipo di crimine che avete commesso se vi possono farvi entrare o meno perché è una cosa che stanno solo all'interno della del centro selezione dopodiché si procede con le prove fisiche che sono molto semplici al contrario di quello che si possa pensare di fare cose impossibili no superman io dico sempre in televisione lì non lavora superman lavorano persone normalissime fisicamente perlomeno e quindi viene richiesto di fare qualche attrazione una corsetta molto semplice e una ventina di addominali poco di più quindi è più che altro per vedere la vostra sufficienza fisica cioè al ruolo questa persona perché comunque è di sana e robusta costituzione come certificato medico che si fa dal dottore quando si va in piscina uguale tutto lì insomma poi si fa una visita psicologica la visita psicologica la fate nella vostra lingua d'origine quindi per chi avesse paura di dire ah non so il francese o l'inglese non è un problema lì dentro si parlano tutte le lingue del mondo quindi da qualunque posto veniate che faccia parte di questa galassia lì dentro la lingua viene compresa e parlata con voi quindi non è un problema fate il colloquio nella vostra lingua d'origine e vi verranno fatti delle domande semplici appunto per vedere qual è il vostro diciamo comportamento medio standard nella vita normale vengono solo domande molto banali e in genere si tende a prendere persone non troppo passatemi il termine per bene nel senso che una persona che qui in italia voleva fare il notaio quindi aveva una vita di ufficio dei modi molto aristocratici e tutto quanto lì si storce un po il naso perché per forza non è quello l'ambiente che andrete a vivere e quindi si cerca un po di fare la selezione già su quel senso lì perché questo perché c'è un alto numero di disersione e quindi la disersione è scomoda sia perché diserta sia per chi per la regione perché appunto si vengono a conoscenza di determinate cose si vengono a scoprire posti luoghi tutte queste cose e che sono scomode se poi un disertore uscendo le va a sperperare 4 20 e quindi è per questo che la scrematura iniziale che è molto semplice viene fatta per questo motivo qua e le visite mediche sono riguardo quello che era appunto la sana robusta costituzione cioè se avete fratture gravi alle articolazioni è difficile che vi lasciano entrare perché lavorerete molto sulle articolazioni soprattutto in in base al tipo di reggimento in cui andrete a finire o sceglierete di andare voi però quello che riguarda la vista l'udito non è vero che deve dobbiamo essere piloti daerei non è chiesto a nessuno di essere un pilota daereo avere 10 decimi e sentire come un come un lepre no se è un udito normale sino io otto decimi e nove decimi quindi non sono un falco ma sono entrato tranquillamente non è non è richiesto di essere un falco neanche per chi volesse diventare sniper perché magari c'è qualcuno che vuole vuole fare lo sniper quindi non è non è richiesta la perfezione è richiesta assolutamente la normalità la semplicità la dedizione la devozione e la convinzione di fare quello che si sta scegliendo di fare tutto qui e dopo di che se tutto questo va bene insieme ad un gruppo di persone che mediamente sono un centinaio io parlo per la mia esperienza perché poi appunto come dico mi sono ruolo nel 2014 e da 2014 a oggi so che sono cambiate un po un po di cose riguardo anche l'arruolamento quindi posso aiutarvi a rispondervi per quello che era nel 2014 che sicuramente era un po più duro di quello che è adesso perché sono cambiati un po i tempi i modi il lavoro in sé proprio è cambiato quindi la francia richiede altro oltre a chiede anche altro quindi sono cambiate un po di cose che come sono cambiate non posso aiutarvi su questo non lo so però su quello che è stata la mia esperienza posso dirvi che si raggiunge un numero di centinaio di persone e da lì si va a castello darì castello darì è il quarto reggimento straniero cioè viene chiamato il reggimento di istruzione cioè tutti i legionari a prescindere dal grado il reggimento di appartenenza vanno a castello darì a fare l'addestramento il primo famosissimo addestramento di sei mesi circa il mio ha durato sei mesi come vi ripeto non avete orologio non avete telefono non avete niente quindi voi dopo io ho retto una settimana circa più o meno a contare i giorni poi dopo di che mi sono perso e non sapevo più che giorno fosse che ore erano non sapevo niente vedevo solo che c'è la sole la luna e basta o caldo o freddo in base alla stagione io mi sono arrolato a gennaio quindi era molto freddo perché castello darì è sotto i pirenei quindi è freddo perché se ti piace il freddo arrolatevi d'inverno se mi piace il caldo arrolatevi d'estate ma entrambe le stagioni le odierete perché comunque lì sarà all'estremo di ogni cosa che uno può immaginarsi grazie a tutti